Ciao a tutti, oggi faremo una lezione di Pilates Home Edition. Partiamo con la posizione del Pilates Tense. Inspiro sulle punte, espiro giù le punte. Inspiro sulle punte, espiro giù le punte. Vai! Rimango su, flecco la ginocchia. Ora, rotonda la colonna, giù il mento, sali, inspiro, salgo, stendo le gambe e scendo. Ancora, inspiro, fletto la ginocchia, rotonda la colonna, giù il mento, stai lì. Io mi giuro per farti vedere, cerchi delle braccia. Uno, due e tre. Stendo le braccia, stendo le gambe e scendo. Questo è lo horseback, ancora, inspiro. Horseback che vuol dire schiena del cavallo, eh? Traduciamo back con schiena. E rimango, attenzione, dietro, pugni. Uno, due e tre. Stendi le braccia, stendi le gambe e scendo. Ancora da capo, horseback. Inspiro. Espiro. Flex. Rotonda la colonna e vai con il cerchio delle braccia. Uno, due e tre. Dietro, pugni. Uno, due. Quasi sono così. Tre. E spendo. E scendo. Ultima volta da capo. Inspiro. Espiro, rond. Rotonda, tieni l'equilibrio. Uno, due e tre. Stendo. E scendo. Ultimo esercizio in piedi. Standing course. Inspiro, porto le braccia dietro la nuca. Appena appena sollevati i talloni dal pavimento. Inspiro. Ruoto. Da una parte. E salgo. Inspiro. Espiro. Scendo. Inspiro. Salgo. Espiro. Scendo. Inspiro. Sempre in relevé. Appena appena. L'ultimo. Non c'è male. E sto. Stendo. Incrocio. Mi siedo. E snoccio la colonna. Gomiti a squadra. Stendo le gambe. Stendo le braccia. Punta della scapola appoggiata. E vado. 2, 3, 4. Es. 2, 3, 4. 100. 100. 1, 2, 3, 4. Es. Se facciamo le battute da 8. Ne facciamo 12 di 8. Arriviamo a 96. Ne facciamo 100. Ne facciamo sconto del 4. 4. Inspiro. Espiro. Es. 2, 3, 4. Dai. Andiamo. Andiamo. 1, 2, 3, 4. Es. 2, 3, 4. Come siamo arrivati? Per me è 64. 1, 2, 3, 4. Es. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Es. Corra ancora. Sempre pilate stance. Tieni i talloni uniti. 80. 1, 2, 3, 4. Es. 2, 3, 4. 90. 100. Abbasso le gambe. 1, 2, 3, 4. Magari siamo 80. Non importa. Non contiamo mai gli altri. Non è vero. Li contiamo sempre. Inspiro. Scendo. Espiro. Su. Inspiro. Scendo di sì. Mettono le gambe. Spero di sì. L'ultimo. In. Rimane. E sorridi. In. 2, 3, 4. Es. 2. Stai lì. Stai lì. Stai lì. Stai. E porto il giro che petto dalla pancia. Pancia in dentro. E stretch. Stendo le gambe. Sollevo le braccia. Ecco. Quanto il squaglio non arrivo a terra. Ma le braccia non devono essere all'altezza del cielo. Mi sento. Rimango a 45 gradi dal suolo. Rotonda la colonna. Roll up. Inspiro. Salgo. Lentamente. Sorridendo. Soffrendo. Espiro. Rotonda la colonna. E torna. Snocciola. Pensando a come mettermi. E. Vai. Allora. Aspetta che. Mi porto appena appena qua così. Almeno ci sto. Vi vedete? È rotonda. Vi potete vedere la sezione. Inspiro. Sollevo. Com'è così? Si vede bene? Eh? Camera man. Si vede bene? Si vede bene così? Torno. Ringraziamo Alice, videomaker. Snocciola. Ah. Criccola crac. Si è scoracchia una meraviglia. Su. Con questo cd roviniamo tutti i pezzi rock. If you know what I mean. E. Snocciola. Facciamo cinque roll up. Siamo tre. In. Es. Snocciola. In. Es. Uh. L'ultimo. Inspiro salvo. Espiro rotonda la colonna. Spero che voi abbiate più spazio di me. E. Dritta la schiena. Rimango. Sono qua. Abbassa le spalle. Sorridi. Siamo qua. Provami per la giornata. Stai in casa? Dentro. Sinistro. Vai. Scende. Sono più pozza. Quattro. Tre. Due. Uno. E. Zero. Ok. Vorrei fare il roll over ma non ci sto. Mi giro. Di qua. Ok. Stanno riuniti. Inspiro. Inspiro. Sollevo le ginocchia. Sollevo le gambe. Espiro. Allora. Roll over. Inspiro. I piedi dietro la testa. Questo qua se ci avete spazio. Beate voi. Inspiro. Piedi dietro la testa. Espiro. Separo. Inspiro. Punto i piedi verso l'alto. Espiro. Snocciolo. E. Talloni uniti. Qua. Così mi si vede. Vai. In. Oltre. E. Separa appena appena. In. Spinge. Se ho bisogno dell'appoggio lo faccio. Espiro. Snocciolo. E. Talloni uniti. Vai. Pronti? Spettiamo la musica. Inspira. Oltre. Separa. Spinge. E. Snocciola. Una vertebra dopo l'altra. Talloni uniti. L'ultimo. In. Es. In. Es. Snocciola. Gamba detta al petto. Sinistra stesa a terra. Allora. Sono qua. Lo spazio è quello che è ma non ci sono scuse. Stende la gamba. Extra ruota al ginocchio. Giù le braccia. Le braccia inchiodate al suolo. Dentro la pancia. Chiudi le coste. Leg circle. Incrocio. Abbasso. Infilo. Cerchio. Due. Mento vicino. Le mani inchiodate a terra. Se io vengo lì e me ne sollevo. No. Non si sollevano. Inspiro. Espiro. E cambio giro. Esterno e interno. Prima l'interno. Chiude il bacino. Poi l'esterno. Apre l'anca. 4-5 da una parte. 4-5 dall'altra. Belli ampi. L'ultimo. Abbasso. Non scusate il comò. E dalla pancia. Rissute dalla pancia. Porta il ginocchio al petto. E stretch. Cambio gamba. Dall'altro lato. Piazzo bene le spalle a terra. Mento vicino. Stendo le gambe. Extra vuota. Due braccia. Incrocio. Abbasso. Inspiro. Sorridi. Mento vicino. Pegli a terra. Mani a terra. Scusate. Puoi uscire. Puoi passare sopra il letto. Andare di là. 5 giri. E dall'altra parte. Apro l'agua. Qua se sprocchia. Va bene. Trick rock track. Inspiro. Espiro. Smoke on the water. L'aveva già rovinata l'uccignolo. E l'ultimo. Abbasso. Dalla pancia. Pancia in dentro. Ristucchia l'ombelico. Stretch. Tira. 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 E stende. Roll up. Per regnone su. Inspiro. Su le braccia. Sulla testa. Sulle spalle. Salgo lentamente. Gioendo. E in avanti. Allora. Sono allunito nel materassino. Vediamo se mi uccido facendo questo esercizio. Prendo. Se riesco. Con la mano destra e la caviglia sinistra. E il polso. Altrimenti. Dove riguarda. L'importante è vedere. I talloni vicini al blutei. Ci sei. In. In. Cado. In. Torno. Massaggio della schiena. Ah. Massaggio anche dello stomaco. Es. Questo esercizio. Toglie l'aria dalla pancia. Quindi ci possono essere delle controindicazioni. Rumorose. Es. In. 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 L'ultimo. In. Torno. Ci prepariamo per le single leg stretch. Mano destra, ginocchio sinistro. Mano sinistra, ginocchio destro. La mano opposta al ginocchio. Fai un attimo. Taradan. Taradan. Lo facciamo da sdraiati. Sempre. Punto della scapola appoggiata. La gamba stretch. Perché single leg stretch. L'altra 45 gradi dal suolo. Vai. In. In. Es. Es. Se lo maneggio bene. Posso anche portare il braccio opposto. Alla caviglia. Se invece ti scambi le braccia. Tieni l'esterno. Fai prima. Vai. Due. Sempre col naso. In. In. Es. Grazie. Lo sento il ritmo. In. Es. Insieme. Bubble leg stretch. Inspiro. Stendo braccia e gambe. Aprocate un gol fiato. Espiro. Stretch. Tiro. 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 Inspiro. Stendo. Apro. E. Stretch. Guardo le ginocchia. Guardo il soffitto. Apro. Guardo le ginocchia. Ancora uno. Apre. E. C'è un altro. Con i cerchi delle gambe. Si mettono le gambe. Cerchio. Spazio permettendo. Roviniamo anche i kiss. S. Che puoi aggiungere un tunz tunz al rock. Andavamo all'inferno per altre robe. E. E. Stretch. L'ultimo. Stendo. Stendo in versione con i cerchi. E stop. Se mi fa male il collo appoggi un attimo la testa a terra. Sempre spazio nel collo. Stendo le gambe. Se. Se. Solleva la testa con le spalle. E piazza di nuovo la scatola. E. Sforbicia. In. In. Es. In. In. Più greco. Mi chiedura. In. In. Es. In. Si senti la musica è canta dentro la pancia. Avvicina la tibia. Al mento. Ok. Ancora quattro. In. In. Es. In. In. Es. Siamo al minuto? Che minuto siamo? Quindici minuti? E. Alcora due. Uno. Più le fai. Non lo è. E. Palloni uniti. Non scendere con la testa. Porta le mani dietro la nuca. Appoggiale sulla nuca. Devo dietro la testa. Scendo. Up and down. Inspiro. Scendo. Espiro su. Ancora. Ok. L'ultimo. In. Appoggio. Interno del piede. Apri i gomiti. Solleva la testa. Vai. In. Es. In. Cambio. In. Es. In. Cambio. You was made. I can't get it now. Fa male. Fa male. Dai. L'ultimo. Non sento niente. L'ultimissimo. L'ultimissimo. Destra. Apri bene l'ascella. Sale con la spalla. Sinistra. E. Sopre. Relax. Mani sulle coste. Un bel respiro. Dentro la pancia. Quando ispiri. Chiudi le coste. Stende le braccia. Stende le gambe. Solleva le braccia. Roll up. Inspiro. Lentamente. Sale. E. Rotonda la colonna. Allora. Stai lì. Divarica. Sono qua. Divarica. Appena appena. Braccia gambe stese. Inspiro. Salgo. Allungo. E. Spiro. Pugno nello stomaco. Butta fuori l'aria. Rotonda la colonna. Snocciola. Cambia la pelvis. Gira. e spalle. Inspiro. Salgo. Allungo. Strizza le natiche. Allungo. Allungo. E. Ronda. Allunga la C-shape. La zona dietro. La lombare. Sopra di C. Un pezzo di scotch. Scusa a te. Rotonda. Rotonda. E. Torna. Gira il cocci. Gira. Ah. Ciao amore. Grazie. Inspiro. Salgo. Inspiro. Rondo. Ah. Non arrivo alle punte dei piedi. Perché? Perché devo allungare la schiena. Se no ci arriverai alle punte dei piedi. Ma no. Devo allungare la schiena. Per cui. Le braccia. Spingono in avanti. La schiena spinge indietro. Torna. Snocciola. Ah. Allora. Tre livelli. Avanzato. Intermedio. Base. Allora io direi. Parti dall'avanzato. Poi al massimo scendi all'intermedio. Poi se proprio non c'hai un orgoglio. Scendi giù. No. Scherzo. Ognuno. Fa dove viene per lui. Appoggia. Appoggia. Ginocchio al petto. Inspiro. Espiro. Stendo. Leg. Circo. 1. 2. 3. Se ti fa male scendi. 4. Io vado un po' di dietro che non c'è spazio. e 5. Cambio giro. 5. Aia. 4. 3. 2. 1. Dai vai l'ultimo. Vai l'ultimo. Vai l'ultimo. E torno. Piedi paralleli. Divaricati quanto le spalle. Le braccia. Oltre l'ampiezza delle spalle. Inspiro. Sollevo. Torsione. Strizza. I talloni fermi sulla stessa linea. E vado. Mignolo. Mignolo. Non sposto il tallone. Non lo sposto. Perché se sposto il piede vuol dire che muovo l'anca. Gira di là. Inspiro. Torno. E spiro giù. Cambio. Su. Torsione. Là. La spalla dietro puoi fare una circonduzione per liberare la spalla. Centro. Inizio. Questo è adesso. Giù. La sega. Su. Lato. Sega. Là. Spalla dietro. Allungo. Centro. Scendo. Salgo. Lato. E fuori l'aria. Sto pensando per fare i glutei dopo dove ci mettiamo. E stendo. E giù. Palloni uniti. Smoccio la colonna. Giù le braccia. Sulle gambe. Mento. Vicino. Mani inchiodate a terra. Corsoio. Da una parte cadono le gambe. Inspiro. Torno. Dall'altra. Disegno. Un otto. Un infinito. Espiro. Quando cado. Inspiro. Torno. Vai. Quattro. In. Tre. Due. Uno. Corso. Due. Spindalo sull'alto. Up. Scendo. Round. Up. Down. Round. Non fa male. Se ti fa male fai sempre l'uno. Fai il primo che abbiamo fatto. Vai avanti. Strizza la pancia. Sempre. Segreto. Tieni la pancia in dentro. Non solo nelle foto. Sempre nella vita. In. Solo spinte. Vai. Up. Up. Inspiro quando salgo. In. E se è il contrario dei crunch classici. Pilate si inspira in fase di contrazione addominale. In questo caso. In altri alla fine della contrazione espiri. Uh. Pronti? Vai avanti. Ne facciamo tanti. Incrocio. Vai vai. Non ti fermare. Ricomincia. Se ti sei fermato riprendi. Su. Giù. Spingo verso l'alto. eh. Cambio l'incrocio. Spingo là. Non spingo qua. No. No. Sì. Lì. Oh. Tre. Due. Uno. Non stanno i miei amici. Non facciamo il corso. Il tre perché non c'è spazio. Parabarabara. Però il tre sarebbe. Sposto le ante e giro. Sbam. Dall'altra parte. Sposto le ante e sbam. Facciamo. Ci vengono qua. L'ultimo. Sollevo. E vengo su. Ci prepariamo per l'open leg rock. Ma prima. Un attimo di allungamento. Gamba destra. Tira. 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 Prima frontale. Poi te pilates con la musica tunes tunes rock. Puoi fare tutto nella vita. Dovresti farlo solo ascoltando il rumore del tuo respiro. Ma... Perché non farlo? Vuoi farlo con la musica di Bollywood? Fallo con la musica di Bollywood. Fai come vuoi. Basta che lo fai. Poi, semplicemente non ascoltate le stronzate che dico. Perché lo faccio un po' per distrarvi dal dolore. Che non c'è assolutamente, non c'è niente. Laterale. Abbassa le spalle. Stedi la gamba. Questa è solo la preparazione dell'esercizio, eh. E cambio dall'altro lato. Tira, tira, tira. Open leg rocker. Allora, vediamo se moriamo anche in questa posizione. Stendo le gambe, vado a prendere dietro, dove arrivo, arrivo. L'importante poi è non muovere le mani dalla presa. Apro, inspiro, cado, espiro, torno. Inspiro, chiudo, veniamo un po' più avanti. Espiro, apro, inspiro, cado, espiro, torno. In, open leg rocker. Es, in, es. L'ultimo. In, es, in, es. Rimane. Stacca le braccia. Bello, ecco, per l'alto del Milan. È l'unico che ha pulito tutte le mensole, le ho portate da mia madre. La lasciamo, scendo le braccia verso le gambe. Teaser, vai, prima dondolino. Uno. Due. Tre. Quattro rimane, dondola, dondola, stai, sorridi. Stai lì, stai lì, stai lì. Scendono le gambe e salgono. Non tocco, eh. Scende e... Scende. Sale, l'ultimo. Scende. Sale, teaser due. Scende. Sale. Sale, abbassa, alza, in, rolla. Es. L'ultimo. Rimane. E stop, relax. Mani. Sulle coste. C'è un bel respiro. Allora, mi sto chiedendo come fare i side kick. Perché lo spazio è quello che è, ma riusciamo sempre a trovare una soluzione. Allora, se riuscite a stare completamente sdraiate. Ok, io mi metto così un po' in diagonale. Qua sono appoggiata. Con la mano. Con la testa. È indifferente. Diciamo che così è base, intermedio, avanzato. Ma, come sono comoda, va bene per me. La mano vicino alla pancia. Scende la vita. La spalla abbassata verso i piedi. Piede a martello. La gamma di terra. Punta in avanti. Martello, martello e indietro. Allora, mettiamo un po' lo spazio. E in. Es. Es. Punta. Martello, martello. Spero che si veda qua la posizione. Si vede la posizione? Non arriva nessuno. Prima avevo un cameraman, adesso me l'ho abbandonato. Ma non importa. Side. Kick. Punta. Martello, martello. Ne fatti otto? Bicycle. In avanti, punta stesa. Inspiro, espiro. Ok. Otto da una parte, con la punta stesa. Bicycle. Reverse. Dall'altro lato, piede a martello. Inspiro, espiro. La piazzera è sempre a martello. Uno. Uno. Due. Tre. Quattro. Cinque. Sei. Sette. Otto. Rimango. Piccolo molleggio. Up and down. In and out. Intraruota. Extraruota. Contrario. Extraruota. Intraruota. L'intraruotazione si intende del ginocchio, ma parte dall'anca. Apri e chiudi. Apri e chiudi. In and out. Non fa male, non fa male. Non fa male, non si sente niente. E reverse è in and out, reverse. Adesso. Parabara. Oh. Pun, 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 pun. Adesso uccidetevi questo, sono le zette in metallica. Extraruota. Rimane. Due. Tre. Un. Due. Tre. Quattro. Charlotte. Bello, Charlotte. Vero? Sette. Otto. In. Due. Tre. Quattro. Es. Due. Quattro. In. Due. Tre. Quattro. Es. Due. Tre. Stop. Io faccio anche i piccoli cerchi, perché il gluteo bisogna dare una botta. Cambio giro. Piccolo cerchio dall'altro lato. Tre. Quattro. Cinque. Sei. Sette. Grand Ronde. Non fa male. Non fa male. Non sento niente. Inspiro, espiro. Tieni sempre la mano. Spingi la spalla. Sorridi. E mi fermo. E cambio. Vai, Quentano, gli essi dissi. Yeah. Arriva, arriva. Thumbestruck. Due. Uno. Mi fermo. Sei lì. Punta. Martello. Sopri in silenzio con gioia e gaudio. Tre. Due. Uno. E flex. E stand. Scioglie, scioglie, scioglie. Adesso usiamo appena appena l'altra gamba. Come? Porto e appoggio. Tieni lì davanti, la gamba sotto, su. Otto. Sette. Sei. Cinque. Quattro. Tre. Due. Punta ai piedi. Uno. Due. Tre. Quattro. Cinque. Sei. Piccolo. Cerchiolino. Uno. Due. Tre. Cambio giro. Quattro. Tre. Sono scontosta. Uno. E zero. Stede le gambe. Pancia sotto. Non so come facciamo qua a fare lo swimming. Vabbè. Ho i piedi. Ho i piedi là. Le braccia sono stese in uno spazio più grande. Vabbè. Faccio la variante così. Sulle braccia, sulle gambe. Nuota. Swimming. Nuota, nuota, nuota. Giù la testa, eh. Le braccia sono su. Uh, posso fare come... Tre. Due. Uno. E zero. Allora, cobra. Posso portare un po' il mio trasfino qui là? Pena, pena, eh. Ok. Perché appoggio... Allora, se vi fa male la schiena, se la flessione è un po' dura. Per voi potete appoggiare la punta delle ginocchia e fare questo. Altrimenti, collo del piede appoggiato. Eh, solo col collo nel piede. A me non si vede. Ma le mani alla testa delle spalle. Giù la testa. Inspiro, sollevo. Espiro, scendo. Inspiro, salgo. Espiro, scendo. posso scendere ogni tanto ogni volta quello che riesco è bene per me giù giù la testa mezzo giro cover your head e cado su andai yuhuu e compenso scivolo lo so questo matrazino è piccolo ma è troppo bello il mio tappeto se avete un tappenino normale ci state dobbiamo fare l'altro gluteo snocciola e spalle mi giro dall'altra parte per l'altro gluteo allora stendo aspetta che stende le gambe stende le braccia appoggia la mano vicino piega martello forse punta martello martello indietro non avevo altro spazio per filmare la sala più grande dici potete farlo in sala sì devo sfrattare una famiglia devo sfrattare un marito dal divano due punta punta side back es es uno es es bici sono una posizione un po' infelice poi metto così si vede spero che si veda comunque bicicletta punta stesa e reverse punta martello reverse punto dai dai reverse oppa ok rimane uno due tre cerca di stare più dritta possibile con il corpo in and out esterno interno su extra rotazione dell'anca intra rotazione intra extra on the door on the door quattro tre due uno reverse in and out reverse tre due uno rimane su charlotte un due tre quattro un due tre quattro in due tre quattro e due tre quattro e quante ne faccio? mille tre due uno e piccolo cerchio uno uno due tre quattro cinque sette sette cambio giro uno due tre cin sette sette grand round grand round punta 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 martello punta martello premio stessione giusto che l'abbiamo fatto l'altra parte wow wow quattro tre due due uno stop tieni vicino l'altra gamba quattro tre due punta il piede un due tre quattro cin sette sette cerchianino un due cambio giro vai a quattro tre due uno punta martello abbiamo fatto no tre due uno e zero I just go my way cameraman a che minuto siamo? snoccio la colonna e porta le ginocchia al petto allora una variante per la vostra pratica può essere ad esempio un minuto di plank tra un gluteo e l'altro anche alla fine dell'altro gluteo adesso ci prepariamo per l'allungamento sdraiati schiena a terra la schiena bella aderente al suolo porta le ginocchia al petto relax appoggi un piede a terra a cavallo la gamba sopra per allungare il gluteo prendo la gamba di terra e tira 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 se non ci arrivo prendo l'altra se ci arrivo prendo anche il ginocchio qua la schiena completamente aderente al suolo lascia andare e cambio a cavallo prendo tira 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 e schiaccia bene lentamente torna se vi tira se vi tira vuoi stare ancora lì un po' troppo bello questo questo proprio va benissimo per il nervo sciatico il piriforme allunga bene il gluteo facciamo un po' di torsioni ginocchia al petto apro le braccia all'altezza delle spalle non sopra le spalle appena sotto e cadono le ginocchia da una parte e la testa dalla parte opposta inspiro, torno e cambio ginocchio ginocchio di qua testa di là inspiro, torno lentamente e dondola per risalire due o tre dondoli per sciogliere la colonna e stendo le gambe stendo le gambe davanti a me inspiro sollevo e spiro vado a prendere gli alluci le punte dei piedi le tibie dove arrivo arrivo appiglio e giù la testa bene se volete andare bene oltre rispiro salgo allunghiamo prima una gamba poi l'altra destra in avanti e salgo sinistra e salgo vedi se hai preso centimetri eh vedi se hai preso sicuro bisogna slacciare scucire l'orlo dei pantaloni per allungarli pilate fa prendere centimetri eh ah che meraviglia inspiro salgo allungo apro allora terminiamo un altro allenamento casalingo con la foca la presa dentro le gambe alle caviglie inspiro un due tre e un due tre ali ho bisogno di te boing 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 in alice mi aiuti please niente ali mi devo alzare niente eh vabbè incrocio senza mani vengo su o lentamente appoggio e snocciolo pilate stance e scioglio abbiamo finito due e tre cambio uno due inspiro recupera e scendo inspiro cattengo il piatto e grazie grazie alla fine della lezione possiamo fare cinque push up inspiro sollevo espiro scendo inspiro cammino espiro fletto inspiro salgo espiro cammino inspiro sollevo ne facciamo cinque es in sorridi es es ispiro espiro siamo a tre vai quattro ringrazio ringrazio il cameraman riccardo non ho fatto una volta al giorno non è stato bene è l'ultimo è l'ultimo il cameraman sta nel silenzio grazie grazie ringrazio Grazie.